Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 19 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Logica contro intuito, chi vincerà? La logica del vostro segno, ben rappresentata dalla Luna, contro l'intuito Nettuniano che le si oppone. Mediatori d'eccezione tra lui e voi due coppie astrali, entrambe in toro, il sole illuminante abbracciato a Giove ottimista e venere seduttiva, stretta stretta aurano imprevedibile. Bando alle indecisioni del partner, alle incertezze del meteo, la gita già programmata si farà, un po' di pioggia non vi spaventa, men che meno qualche lieve contrattempo. Pomeriggio spendaccione per chi se la spassa, proficuo invece per chi col passaggio lunare ha il pomeriggio impegnato sul fronte professionale, servizi sociali, sanità, commercio, ristorazione, un esercito di persone a lavoro nel weekend, non ci si pensa mai e invece le si dovrebbe ringraziare. Giovane Bruno che potrebbe essere un corteggiatore o una persona interessata a voi, probabilmente uno studente, un commerciante, un piccolo imprenditore, un domestico. Giovani collaboratori fidati, colleghi giovani che vi aiuteranno, giovani soci ma affari fidati e onesti. Mettete a posto alcune situazioni che si sono venute a creare nei giorni appena trascorsi, alcune di queste situazioni, se perdete ulteriormente tempo, potrebbero non appianarsi più in modo facile. Oggi è il giorno ideale per cambiare qualcosa della vostra esistenza, anche cambiare semplice mnete look, oppure abitudini, o ancora modi di pensare e giudicare può essere utile per un cammino nuovo. La vostra vita a volte è come una sop opera, con colpi di scena e alti e bassi. Oggi avrete modo di mettere a punto un progetto che vi sta a cuore, regalatevi momenti di gloria e uscite dalla sop opera. Ci sono ottime possibilità che facciate conoscenza di persone nuove ed estremamente interessanti, siate voi stessi e lasciate una porta aperta affinché possano approfondire la vostra conoscenza. Potreste aver bisogno di tutta la vostra carica emotiva per impegnarvi in qualcosa che oggi vi potrebbe far impazzire, alcune difficoltà infatti si presenteranno quasi come insormontabili ma con la vostra caparbietà dovreste farcela. Non abbiate timore di tendere la mano a chi ha bisogno del vostro aiuto, o alcuno poi vi ricompenserà abbondantemente. Un regalo inatteso vi metterà in allegria, anche la fortuna vi sorride e vi saranno piccole entrate al gioco. Piacevoli i contatti con i vicini e i parenti. Bene spostamenti e viaggi. Situazioni si muoveranno a tuo favore. Affidati a uno l'apostrofo intuito. Soldi o regalo in arrivo per i nati dei luneddi. Bella domenica di metà mese che vi vede in ottima forma fisica e mentale. Mercurio e Urano sono i pianeti numi tutelari della Vergine, che stanno attraversando il segno amico del toro, muovendo le corde della vostra simpatia in società, sarete richiesti in più situazioni e ambienti, invitati a esprimere la vostra opinione. Se siete intenditori di arte e cultura, potrete partecipare a avvenimenti particolarmente attraenti sul piano culturale e di rilievo artistico in questa giornata. Ottimi i rapporti con figli e figli, sorelle e fratelli, gratificati dalla concordia e dalla buona capacità di intendersi. Protagonisti anche se solo a mezzo servizio, con la luna mattutina logica e razionale, attenta alla salute, all'economia, al benessere, ma contrastata dalle nebbie di Nettuno che di questi argomenti se ne frega e pensa soltanto all'arte, alla creatività e ai piaceri e se non fanno bene. Pazienza. A impedirvi di dragliare in compenso la linea rossa tracciata dalle stellone amiche nel segno del toro, Giove legalista abbracciato al sole al quale non sfugge neppure un particolare e poi venere signora di eleganza e armonia con Urano, effettivamente trasgressivo ma sempre con sale e mzucca. Vi parleranno di viaggi, di arte, di natura, un mondo tutto da scoprire anche solo a pochi chilometri da casa. E allora che aspettate? Qualche complicazione in più nel pomeriggio col passaggio lunare in bilancia, segno elegante ma anche spendaccione, le cose raffinate non costano mai poco, infatti ecco quel che vi ricorda Plutone in sesta casa, per avere bisogno a sgobbare, magari anche nel weekend. Amore ed Eros. Un conto sono gli ideali bellissimi, colorati, un conto la realtà. Guardandolo negli occhi il partner vi appare sfuggente, come se avesse qualcosa da nascondervi, o forse siete voi a immaginarvelo, sta di fatto che una mezza parola basta a togliervi serenità. E che dire di quei messaggini da parte del collega che si palesa anche nel weekend. Non resta che telefonare a Tom Ponzi oppure prendere lezioni da Sherlock Holmes o Miss Marple, la grande Agata Shresti e vi aiuterà. Sos dal randaggino in difficoltà, inutile aggiungere che voi animalisti non ci pensate su due volte, lo prendete in braccio anche se tenta di mordere o di graffiare, si va subito dal veterinario e poi al supermercato a comprargli qualcosa da mangiare. Ecco come un nuovo 4 Zampe entra ufficialmente a casa vostra per rimanerci. In saicula saiculorum. Lavoro e denaro. Per un segno votato al lavoro nulla di più facile avere un impegno anteoggi, per contratto, per fare un favore a qualcuno o semplicemente per volontariato, insolito in un segno che bada comunque anche al soldo, ma in una società dove la gente è costretta all'irregolarità. Si vive male. In sintesi aiutando gli altri di riflesso date una mano anche a voi stessi. Guadagni e spese per vari piaceri, acquisti, svaghi, viaggi, turismo in giornata una bella città d'arte, domani si parte presto, l'essenziale è andare. Benessere. Cambiare aria fa bene comunque, anche se il meteo oggi non è dei migliori. Se proprio non avete un impegno di lavoro improrogabile approfittate dell'offerta di un amico o di una festa di piazza che vi intriga per muovervi e uscire dalla routine. L'ipernutrizione della società attuale implica soltanto guai, piattino sano ma morigerato, nel bicchiere e solo minerale naturale. Per lei, che cos'hanno snopi e lulù da abbaiare e miagolare quasi istericamente? Nessun ladro in casa, semplicemente vi siete dimenticate di dar loro la dose quotidiana di crocchette. Per lui, osservate dubbiosi la vostra lei, soffermandosi sulle sue parole e le cose che vi racconta. Sembra la trama di un romanzo, infatti lo è, quando parte con la fantasia chi la ferma più? Resta solo un dettaglio da scrivere ancora, ma a questo provvederete voi. Colore delle emozioni, nocciola Barometro dell'umore, sereno Pagellina del giorno Sentimenti, 8 Attività, 8 Finanze, 8 Beneessere, 7 Grazie per aver guardato il video Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo